A breve si votano su online le 209 candidature, ma l'ipotesi di Battista è del tutto esclusa? Mi sembra che lo testimoni il fatto che ci sono 200 candidati a Roma e non c'è Alessandro Di Battista, questa è una questione di principi, i cittadini di Roma sanno che avranno un sindaco del Movimento 5 Stelle, se vorranno, a tempo pieno, romano, che conosce la città e che non ha ambizioni di fare altro, perché questa città l'hanno rovinata quelli che la utilizzavano come trampolino di lancio per andare a fare altro al governo, in altri organi dello Stato, Presidenti Regione e così via. Tutti i candidati hanno una grande esperienza sul territorio, sono attivisti che lavorano nei quartieri da anni, si occupano delle buche, dei problemi dell'acqua, dei problemi delle utenze che vengono staccate a tanti cittadini per morosità, si occupano di problemi reali e noi questi problemi reali che conosciamo bene li vogliamo risolvere entrando nell'amministrazione di Roma. Grillo ha levato il suo nome dal simbolo, era una decisione che era già stata presa per la verità, questo vuol dire che il leader in pector a questo punto è a tutti gli effetti lei? No, il leader in pector è ufficiale a tutti gli effetti, è il movimento stesso, Beppe Grillo ha fatto quel passaggio che diceva da anni, togliere il nome dal simbolo, lasciare questo movimento cammini sulle sue gambe e camminerà sempre di più sulle proprie gambe, sulle mie come quelle di tanti altri attivisti, consiglieri regionali, parlamentari. La proprietà però rimane a Grillo. Il ruolo di garante resta a Grillo se questo intende per proprietà, vuol dire che quando qualcuno non rispetterà le regole, quando qualcuno vorrà cambiare casacca, quando qualcuno non vorrà restituire gli stipendi, ci sarà sempre una persona, che è Beppe Grillo, a certificare che c'è la violazione di una regola. Ma passerà oggi il super cangura al Senato anche grazie al Movimento 5 Stelle? Guardi, io questo non lo so, so che i senatori si stanno riunendo, comunque il canguro resta una cosa ignobile al di là di dove la si applichi, perché il dibattito parlamentare è sacrosanto anche quando non la si pensa come quelli che chiedono di discutere.